Innovazione e sostenibilità per creare nuovi modi di concepire il tessile. Servirsi della ricerca per modellare il presente in favore di un futuro più sostenibile. Questo è l'obiettivo di Alpini Next. Un hub in cui esplorare, cercare quello che ancora non esiste. Fare ricerca pura per vedere cosa succede spingendo il confine più in là. Un hub in cui innovare, trovare quell'intuizione perfetta in grado di aprire la strada a un futuro di infinite opportunità. Un hub in cui sperimentare, provare, riprovare ancora, perché senza tentativi non c'è progresso. Un hub in cui creare, passare dall'idea all'azione per far incontrare scienza e processi industriali sostenibili. Alpini Next. Textile Innovability.